1 questo non sono stato io 0 vai ehi la ciurma io sono mazzetest e sono qui con panino 88 siamo qui sempre su saints row 4 marco se eviti di farci uccidere dobbiamo andare da kinzi andiamo da kinzi vai quello ho usato di tamponarci quindi doveva morire ma forse questa parte l'avevamo già registrata nell'altro video sai non questo bagnetto fuori programma ma sei scemo forte ma era una macchina carina no ragazzi il fatto è che mi è cresciato ho dovuto fare un altro salvataggio diverso quindi boh gg siamo qui marco ti spacco la faccia tanto non potete niente eh lo so sprechiamo solo delle munizioni a casa arrivo prima io no non c'è nulla non c'è nulla qui qu'è? damn Non ho capito cosa dobbiamo fare però Completa si ma questo è quello che abbiamo fatto prima. Ah, ok se mi ha dato il denaro Dobbiamo riprendere da qua registrare. Dobbiamo registrare di nuovo per questa parte l'abbiamo fatta Ah, ok Cosa vuol dire? Aspetta quando sei in un veicolo salvalo con n per guidarlo di nuovo c'è di a consegna veicoli Aspetta scusami Stop riprendiamo adesso a registrare si va bene non importa lo taglio da qua lo taglio da qua continuo Però facciamo di nuovo l'intro Fammi 3 2 1 0 quello che vuoi 3 2 1 vai Ehi la ciurma io sono mazzetest sono qui con Panino 88 E siamo di nuovo su saints row 4 Esatto finito the mission Stiamo aspettando tutto mazz Sto aspettando te e vedo schermata nera Eccomi sono qua Sono qua sexy caro amico Ma Questo te lo meriti per avermi lasciato 10 minuti di aspettarti in una schermata nera Infame e non è bene Nuovo incarico Abbiamo un nuovo incarico Marco Quale facciamo? Ma no non volevo sparare mi è partito un colpo da solo Vorrei che faiga la mia pistola Allora in carichi principali impara le regole Facciamo impara le regole aumentiamo il ritmo che dici Ok si Conferiamo inizio missione con Marco 88 Yeah E' residuo di codice rimassata con Ho solo potuto trovare una piccola maggiore che ho avuto problemi di portare Una volta in un'area generale di un cluster dovrei essere potuto direttarti a la sua locazione Ah ok abbiamo capito Dobbiamo trovare questo tipo di bug diciamo della programmazione di questo Oh Dove vai senza macchina? Ma mica ce l'hai la dentro? Ah senti Che vuoi trovare? Non posso pinpointare le loro esattive Ma ho avuto le zone generale per te Allora aspettissimo Ti rendi conto che siamo in Matrix? Aspetta io metto N Non posso salvare Mi metto di premere N Trova il cluster da Ma con N non mi sta salvando la macchina sai? Voglio salvare la macchina Trova il cluster da Sono qua E' qua in questo edificio ma non ho capito Ma no prima diceva Prima guarda che segnava dall'altra la parte sai? Diceva tipo 400 metri Si ma guarda adesso Ah eccolo eccolo Mi sento Mi sento Ma senti che tu la musica elettronica Si Si Ah no adesso è tipo Adessi a salire? Che cosa può succedere? Comunque Abilità No aspetta No aspetta questo posso farlo io Lo sto Lasciamelo fare dai Ok Yeah Muoviti Arrivo Dopo ricordati che dobbiamo potenziare le abilità eh Perché siamo saliti di livello Lo so Questo è un tutorial dovrebbe mostrarti come usare i punti abilità Non vedremo Oddio ma cosa fa tutta questa gente in giro di notte? Marco dovevi girare forse Per il campo Per il campo Qua è chiuso Guarda puoi prendere questa stradina no? Vabbè Che 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 Kaiser di modo hai per girare? Chi ti ha dato la patente Marco? Me stesso LOL Anzi un toast L'ho vinta con le patatine Un toast Un toast al tonno No era un tramezzino al tonno Distanze Qua vicino Dov'è che è? Prova a fare il giro vediamo Ma io volevo salvare la Voglio capire come funziona per salvare questa macchina Qua vicino Ah eccolo 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 l'ho visto Fermati 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 Scendo vado a prenderlo L'ho visto l'ho visto è qua Ma Nooo Mi ha ritrovato Ma io volevo scusa un attimo Come faccio a fare spawnare la macchina Prima dicevo di far spawnare la macchina ma L'hanno fatto loro Dove hai lasciato la macchina adesso? Ah eh no AIAH Ma porca mitè Perchè mi chiamano qui sotto? Questa è più bella Questa è più bella Questa è più bella No fa schifo Questa è più bella Questa è più bella Questa è più bella Ma quello era vestito da pila Cosa cavolo fai? Ma sei in piedi? Come fai? Come hai fatto Marco? Ecco voglio anch'io L'ho Sto sfondo i passanti Non sprecare munizioni Scemo Eccolo L'hai visto? Si Ok io faccio inversione a U Questo è sufficiente Vediamo cosa posso fare qui Check your hub Bello vedere la macchina che ci avvicina quattà quattà Accedi al menu dei poteri Ah no dice al hub Dobbiamo vedere quale Ah accedi al menu dei poteri Acquista entrambi i poteri Super salto e super sprint Yeah Puoi correre più veloce delle auto Oddio Quindi cosa prendiamo una macchina a fare a sto giro? E Super salto Salto sul muro saltare più in alto degli edifici con il salto caricato Che Kaiser? Marco ma sono delle robe OP come la shit Però io voglio vedere Come ci fa usare? Eh? Ah ecco 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 ecco